Allora, avviamoci a quest'ultima settimana prima delle feste, inizio solo con un paio di informazioni barra avvisi sulla parte finale del corso e sull'esame, avrete forse visto che sul sito ho pubblicato un documento che si chiama regole d'esame che di fatto riassume in modo più preciso, le cose che ci avevamo già detti all'inizio del corso, l'unica vera novità sono i punticini, le soglie fini, ho fatto un po' di simulazioni per definire queste soglie, che era l'unica cosa che non avevo ancora condiviso con voi, ho definito ufficialmente. Dategli un'occhiata, non stiamo qui a leggere insieme, sono due pagine, ho cercato di essere pignolo, prevedendo i vari casi, visto anche perché magari c'è chi lo studierà, lo seguirà più avanti, così ce l'abbiamo prescritto. Se ci sono dei dubbi, delle domande, giovedì magari ne possiamo parlare o mi scrivete una mail, non c'è nulla di nuovo. Di fatto la sostanza è che ci saranno dei compiti scritti relativamente leggeri, quindi un certo numero di domande, non so se ho scritto 9 domande in 45 minuti, qualcosa di questo genere, dove è andato qua? Prova scritta, sì, 9 domande in 45 minuti, domande di cui si presuppone una risposta abbastanza sintetica o per punti o un paio di frasi sulla parte teorica, poi il grosso del lavoro è ovviamente sulla tesina. Tesina che si baserà ovviamente sul sito Energy Community, su cui andremo avanti e in gennaio di fatto dedicheremo quasi sicuramente il tempo per finire o portare decisamente avanti le funzionalità del sito. Sopra al sito che svilupperemo in aula pubblicheremo una specifica ulteriore che sarà il testo della tesina. Questa specifica ulteriore la pubblichiamo entro la fine dell'anno, quindi probabilmente la settimana prossima che siamo più tranquilli, senza lezioni, possiamo metterci a pensarla e scriverla per bene, in modo che abbiate, il mio obiettivo quando faccio queste cose è darvi le specifiche un mese prima che inizi una sessione d'esame e fissare la verifica della tesina il più tardi possibile nella sessione d'esame, in modo che abbiate di fatto un paio di mesi con cui lavorare. La cosa si, dal punto di vista concreto, significa una verifica di quadri in laboratorio, in cui portate ciascuno il proprio lavoro e lo vediamo insieme, ci vorrà il tempo che ci vorrà, se siete in tanti, ma insomma ci organizziamo per farlo. Poi, come vi dicevo, i dettagli del come e cosa li trovate nel documento, poi eventualmente ne parliamo e questo è un primo avviso di cui voglio parlare oggi. La seconda cosa è relativa alle lezioni di gennaio, vi avevo accennato all'inizio del corso e sto finalizzando le cose che avrei cercato di portare qua, alcune testimonianze esterne, persone provenienti da varie aziende che lavorino su questi temi qua, sui temi di integrazione, dei sistemi informativi di grande dimensione, sui temi che stiamo iniziando adesso, di funzionalità evolute, soprattutto domani comincerete a fare il mashup e quindi qual è l'impatto in azienda. Io pensavo di utilizzare, perché sono anche più facili logisticamente, le ore del giovedì mattina, quindi tre, però ne ho due fissati, un terzo ancora incerto, però tendenzialmente in gennaio vorrei ospitare così delle persone esterne. Credo che al di là della finalità biecamente d'esame, possa essere interessante e utile anche sentire parlare da qualcun altro che non passa la sua vita da Politecnico, non la fa in azienda, qual è la loro percezione rispetto a queste cose. Quindi magari ve lo ricorderò meglio, lo dico solamente per evitare, vedete, il giovedì molte persone hanno preso l'abitudine di non venire a guardarsi la lezione, a me va benissimo, non c'è problema, però se viene qualcuno da fuori, vagli a spiegare che la gente in realtà ti guarda il giorno, anche perché non credo che loro potranno essere registrati o vorranno essere registrati. Quindi, questo succederà in gennaio. In gennaio sto cercando di lasciarlo molto, tra virgolette, leggero, con pochi argomenti nuovi, molto laboratorio, questi interventi esterni, in modo che possiate cominciare effettivamente a spendere del tempo per lavorare sulla preparazione dell'esame, soprattutto per la parte di tesina. E quindi, anche per questi motivi, in questi giorni invece stiamo addensando. Ok, chiudere le due parentesi, che poi chiaramente vi ricorderò più avanti, anche su degli avvisi. Di cosa parliamo oggi? Allora, oggi volevo fare un discorso che ho cercato di assumere qua. Quindi, anziché usare il classico supporto a slide sequenziali, ho organizzato, se vogliamo, una scaletta di argomenti, da cui poi andiamo a pescare, a vedere varie aggiunte, varie documentazioni aggiuntive sui vari temi, sui singoli temi. Allora, l'obiettivo qual è? Allora, noi eravamo arrivati, la settimana scorsa, al punto di costruire un'applicazione di autosuggerimento, di autocompletamento, in un campo di testo, che utilizzasse l'oggetto XML HTTP request, lavorando direttamente in JavaScript, per capire come funzionavano le cose. Adesso, oggi, cerchiamo di fare il passo successivo, cercare di farle, diciamo così, con degli strumenti un pochino più robusti. Allora, la prima cosa di cui occupiamo, è, visto che abbiamo già scoperto che la libreria JQuery, ci semplifica spesso la vita, cosa fa dal punto di vista delle chiamate AJAX. Allora, in JQuery esistono vari metodi che vanno sotto il nome, nella documentazione, le trovate sotto il menu AJAX, che di fatto, nascondono, gestiscono già loro, l'oggetto XML HTTP request. Beh, innanzitutto gestiscono le eventuali piccole o grandi differenze che ci sono tra le implementazioni dell'oggetto XML HTTP request tra i vari browser. E quindi non ce ne dobbiamo più preoccupare, come sempre, quando usiamo una libreria, metà del lavoro della libreria è far funzionare le cose in modo uguale su tutti i browser. Dopodiché ci sono una serie di metodi che possiamo chiamare e in particolare ci sono due livelli di funzioni. Vedete che qua c'è un'etichetta che dice che alcune funzioni sono, come ho detto, low-lever interface e quindi di fatto è un livello poco sopra quello standard JavaScript. Quindi il metodo AJAX espone, diciamo così, semplifica un pochino, ma espone di fatto ciò che succede col metodo JavaScript. Invece ci sono degli altri metodi, come ad esempio il GET, che sono i due che utilizzeremo, che invece viene chiamato SHORTEND METHODS, cioè un metodo più sbrigativo, una scorciatoia che di fatto è utile nel 90% dei casi per fare le cose più semplici, per fare le cose più standard, si usano questi metodi semplificati. Quindi di fatto diamo un'occhiata sia a queste due funzioni, sia la jQuery.AJAX e la jQuery.GET. Queste sono funzioni un po' diverse rispetto a come siamo abituati lavorando ai jQuery. In jQuery normalmente c'è dollaro, selettore, selezioniamo un gruppo di elementi e poi a questi applichiamo un metodo. In questo caso sono funzioni che invece non si applicano a nessuna parte di pagina, ma si applicano direttamente all'oggetto jQuery. è come fossero funzioni statiche se parlassimo in Java. La funzione jQuery.AJAX che cosa fa? Come funziona? È una funzione, andiamo a vederla direttamente sulla documentazione, molto semplice, la definizione dice fa una chiamata AJAX asincrona, e va bene, lo sappiamo, dal nome lo intuivamo, e ha un'interfaccia estremamente semplice, una URL e un secondo parametro che si chiama settings. In realtà tutta la complessità è nascosta dietro questo settings. La URL sarà ovviamente l'indirizzo della pagina da richiamare. I settings sono i vari parametri da passare, le varie informazioni da passare a questa pagina. Quindi quando noi proviamo a fare un paragono, un parallelo con quanto facevamo la settimana scorsa con l'obietto XML HTTP request, c'era il metodo open, al quale passavamo una URL. E quindi questo sarà il corrispettivo del primo parametro del jQuery.AJAX. Dopodiché su questo oggetto aggiungevamo delle altre informazioni. Ad esempio, sincono oppure asincrono, potevamo impostare l'encoding, potevamo decidere se era get oppure post, potevamo decidere di passare dei parametri direttamente inserendole con un punto interrogativo. Tutte queste informazioni aggiuntive che noi nella programmazione diretta in JavaScript avvenivano tra l'open, cioè la creazione dell'oggetto, e il send, cioè l'invio effettivamente della richiesta al server, tutte queste impostazioni sono di fatto riassunte in questo campo settings. Campo settings è un insieme di coppie chiave valore. Questo in JavaScript, vedremo è, vediamo se riesco ingrandendo un attimino, se è esatto, se si rimpagina in modo decente. In JavaScript si usa spesso questa convenzione. JavaScript ha la possibilità di creare al volo delle sorte di mappe, mappa come oggetto Java. Una mappa è un'associazione tra un nome e un valore. E questi hanno una sintassi molto semplificata, aperta graffa, nome, due punti valore, virgola, nome, due punti valore, eccetera, eccetera. Poi col fatto che in JavaScript non esistono i tipi di dato, quindi puoi mescolare tranquillamente interi, reali, stringhe o altri tipi di oggetti, e quindi eventualmente anche annidare queste mappe una dentro l'altra, è un modo molto semplice per fornire una serie di parametri. Quindi di fatto è questa, insieme di chiavi, c'è questa mappa che permette di definire, di specificare tutti questi parametri. Vediamo subito per non perdersi un esempio dal punto di vista sintattico. Adesso ne trovo uno qua. Dove è andato? Eccolo qua. Dal punto di vista della sintassi è una cosa di questo genere. Il parametro settings lo scrivo tra una copia di parentesi graffe e all'interno di questa copia di parentesi graffe specifico il nome, due punti, il valore. Il nome, due punti, il valore, e così via. Separati da virgola. Ok? Quindi tutte queste proprietà che vediamo sono da indicare in questo modo. Quindi la chiamata sarà AJAX aperta tonda, virgolette, mettiamo l'indirizzo della pagina da chiamare, poi virgola, e tra parentesi graffe nome, due punti, valore, virgola. Nome, due punti, valore, virgola. Il nome è uno di questi, di queste proprietà. Il valore, vabbè, dobbiamo decidere noi. E, vabbè, qui ce ne sono parecchi, ci sono un paio di pagine, di parametri alcuni molto semplici, tipo ad esempio questo, vero o falso, la chiamata è asincrona oppure asincrona, già lo conoscevamo. Altri, invece, sono gestori di eventi. Una funzione di callback da chiamare prima di mandare, prima che l'oggetto venga mandato. Una funzione di callback da chiamare quando la richiesta viene finita, è terminata, eccetera, eccetera. Quindi, tra le varie proprietà che possiamo impostare, quelle che ci interessano forse di più, sono proprio le funzioni per impostare dei callback. L'oggetto XML, la creativa request di base ha un callback solo, che è on ready state change, è un evento solo. JQuery usa questo evento, poi lo combina con delle condizioni per creare nuovi tipi di eventi, diciamo così, più astratti, a cui possiamo agganciare il nostro gestore. Vabbè, poi c'è il content type, c'è data, questo data è un campo interessante, lo useremo, che di fatto permette di codificare i campi della richiesta. Noi siamo abituati che quando dobbiamo fare una richiesta in get, ad esempio, dobbiamo scrivere il nome della pagina, punto interrogativo, vabbè, poi i parametri, parametro uguale al suo valore e commerciale, parametro uguale al suo valore, eccetera, facciamo noi il lavoro di codifica dei parametri nella URL. Noi l'abbiamo sempre fatto un po' semplificando, nel senso che non ci siamo mai preoccupati troppo se i valori che dovevamo inserire contenessero caratteri speciali, caratteri non permessi in una URL, tipo uno spazio, tipo una lettera accentata, o tipo uno slash, un uguale, un due punti, un commerciale, e tutti questi caratteri dovrebbero essere convertiti, secondo la regola di escaping dell'URL, in modo da poter essere inseriti e essere riconosciuti correttamente. Non abbiamo mai fatto questo, ci siamo un po' semplificati la vita, ma ciò che stavamo costruendo non era molto robusto. in realtà è possibile ad esempio in questa funzione passare a jQuery non una stringa col punto derogativo nome uguale valore, ma a sua volta una struttura come quella che abbiamo appena descritto, nome, due punti, valore, virgola, scritta in JavaScript, e poi ci penserà la libreria stessa a convertire questa struttura di campi in cui usiamo nomi di variabili, quindi usiamo la variabile del linguaggio, le serializzerà e eventualmente se è necessario aggiungere i caratteri di escape opportuni lo farà automaticamente. Quindi per noi sarà consigliabile, più comodo passare i parametri in questo modo, piuttosto che andarci a comporre le stringhe da soli. stiamo un po' diventando allerdici a concatenare le stringhe perché questo rischia sempre di causare problemi. Quindi in questo caso c'è un parametro data che viene convertito nei parametri della richiesta direttamente in get. Poi direi che un'altra vabbè ci sono altri gestori di eventi ma alla fine quello che ci interessa di più ad esempio c'è un metodo che viene chiamato se la richiesta va in timeout cioè se il server muore cosa devo fare? C'è questo oggetto sul browser che aspetta la risposta beh ti imposta un timeout e dopo un certo valore viene chiamata una funzione. Oppure c'è dove è andato success? Eccola qua. La funzione cioè il parametro più utilizzato è il callback che si chiama success cioè che viene la funzione che viene chiamata quando la chiamata Synchron AIEX ha avuto successo quindi è arrivato quello che chiamavamo il corpo della risposta e questa funzione viene chiamata con tre parametri di cui il secondo e il terzo sono opzionali il primo quello più importante è questo parametro data che è il corpo della risposta il response text come lo chiamavamo la volta scorsa quindi di fatto in una riga sola noi possiamo specificare la URL è almeno un evento che è l'evento success a cui associamo una funzione per tradurre questo in codice noi scriveremmo qualcosa del tipo fatemi creare solamente un file in cui scrivere degli esempi prova.js solo per mettere in pratica questa definizione vuol dire che quando io devo chiamare una pagina remota AIEX io posso usare l'oggetto dollaro.ajax o jquiri.ajax come voglio e ho due principali parametri il primo parametro è la URL quindi sarà non so slash progetto slash completa .gsp sto chiaramente facendo un esempio fuori dal contesto dell'esercizio poi lo applicheremo all'esercizio e il secondo parametro è questo elenco di impostazioni questi settings questi settings sono sotto forma di una di fatto una struttura è una mappa è una sintassi per creare le mappe questa di cui tra le varie proprietà che ci interessano dicevamo che quella più interessante sono i dati data i dati da spedire e la funzione di callback da chiamare quando la richiesta è terminata quindi avrò un primo parametro che è data e un secondo parametro che è success sono i due più utilizzati i data passo i dati della richiesta e success invece specifico la funzione da chiamare al completamento della risposta i dati della richiesta che cosa sono mi dice la specifica mi dice che se non è ancora una stringa è convertito in una query string e l'oggetto deve contenere di nuovo delle coppie chiave valore oppure può essere un array e va bene quindi di fatto un oggetto javascript ad esempio se io volessi potrei dire che il nome è ricordiamoci che facevamo un completamento quindi magari iniziava con ca non lo so l'utente aveva scritto ca e quindi devo passare il parametro punto interrogativo nome uguale ca questo lo posso fare passando nel campo dati una struttura una mappa che contiene in questo caso un parametro questo è il nome del parametro e questo è il valore del parametro in questo caso ho messo una stringa costante potrebbe essere una variabile javascript quello di destra è un valore quindi una variabile viene valutata quello di sinistra è solamente un identificatore un nome non corrisponde a una variabile la funzione jquiri prenderà questa mappa in questo caso ce n'è uno solo potrei anche dire magari abbiamo una versione più evoluta del nostro pagina dinamica in cui posso impostare il numero massimo di risposte max 2.10 una mappa nome 2.valore con dei nomi chiaramente che andranno a finire nei parametri della richiesta request.get parameter di nome request.get parameter di max e codificano quei valori quindi posso evitare di fare io l'incollamento e l'escaping delle stringhe il campo success invece è una funzione di callback cosa deve fare il mio sito quando la richiesta è terminata allora ovviamente dichiara una funzione che ha almeno il parametro il primo parametro è indispensabile gli altri due spesso non servono e quindi success è lo status che sarà quasi sempre 404 e il jackr è l'oggetto di basso livello che è stato usato ma il data invece è quello che mi interessa che è il testo della risposta function data aperta e chiusa graffa quindi io sto definendo un secondo allora ricordiamoci il primo parametro erano i dati da passare nella richiesta sono a loro volta sotto forma di mappa di struttura di dati virgola secondo parametro success lui è di tipo funzione questa funzione verrà richiamata qui ho come al solito definito una funzione anonima verrà richiamata quando il ready state arriva a 4 quando la risposta è completa e qui dentro ci posso mettere le cose da fare azioni da compiere al ricevimento della risposta che so ad esempio prendo un div che si chiama commenti o suggerimenti e ci metto dentro i dati ricevuti questo qua li metto dentro brutalmente il metodo html di jQuery corrisponde all'inner html del DOM quindi dentro il div sostituisce il contenuto intero di tutto quel div con una stringa che viene interpretata come se fosse html che ho ricevuto nella risposta questo sarà un esempio è più che altro per familiarizzarci con la sintassi qui abbiamo queste parentesi graffe che sono quelle che delimitano i parametri i vari campi del secondo parametro della chiamata IAX in realtà queste altre parentesi graffe non c'entrano nulla sono invece delimitano la funzione callback sempre tutto molto annidato quindi è più facile sono quelle parti di codici che sono più facili da scrivere che non da leggere perché mentre lo scrivi è abbastanza mentalmente il contesto di a che punto sei arrivato quando lo leggi è facile perderti soprattutto poi quando dici manca una parentesi e vada a ritrovare ma vabbè questa è la versione di basso livello in realtà per molti casi servono funzioni ancora più semplificate quello che jQuery chiama shortcuts o short ends scusate e ad esempio la get è poi quella forse più utilizzata sono funzioni che a loro volta internamente chiamano la dollaro.ajax ma hanno un'interfaccia un pochino semplificata in questo caso addirittura vi da l'equivalenza sotto di fatto questa funzione ha un parametro che sono la url un secondo parametro opzionale se lo vogliamo mettere è una mappa che contiene però solamente i dati e quindi evitiamo un livello di parentesi graph di fatto e un terzo parametro se lo vogliamo indicarlo è quasi sempre una funzione di callback da chiamare quindi in realtà i tre parametri la funzione ajax poteva avere tanti parametri diversi noi ne abbiamo usati solamente tre la url data e success guarda che erano quelli che ci parevano più utili e guarda caso la funzione dollaro get mi permette già di specificare direttamente quei tre parametri quindi semplicemente un alleggerimento sintattico nulla di più quindi questo ci permetterebbe già di andare a prendere l'esercizio della volta scorsa sull'autocompletamento e sostituire codice javascript puro con codice javascript basato su queste funzioni ad esempio in questo caso col metodo get dovrei semplicemente scrivere dollaro.get vi ho detto che ha tre parametri il primo parametro è l'indirizzo quindi è uguale il secondo parametro sono i dati in questo caso i dati ne abbiamo uno solo quindi nome questo qui sarebbe e il terzo parametro è la funzione non serve success due punti semplicemente ci inseriamo la funzione quindi questa seconda chiamata sarebbe equivalente alla prima un pochino più leggera sintatticamente e sostituisce quelle dieci righe che avevamo scritto la volta scorsa in cui creavo l'oggetto facevo l'open facevo la send creavo ready state controllavo se il ready state era uguale a 4 tutte queste belle cose faccio tutto qua quindi vabbè come al solito ci sono le funzioni più semplificate che oltre a permetterci di scrivere di meno in realtà il grosso vantaggio è che gestiscono anche tutte le anomalie e dettagli a cui normalmente non pensiamo questo per gestire la chiamata prima però di andare a fare una nuova versione dell'esercizio basata su queste che sarebbe un esercizio di due minuti probabilmente ragioniamo un attimo su quello che succede sul server il server la volta scorsa avevamo costruito andiamo a prenderla perché una jsp che avevamo chiamato completa.jsp che di fatto sulla base di un parametro che era il nome cioè le iniziali del nome scritte fino a quel momento dall'utente attraverso uno solito dao che si interfacciava con una tabella di un database togliti e otteneva un elenco di completamenti possibili e questo è il lavoro di database una query semplicissima sul database e poi questo elenco di completamenti veniva inserito in una veniva stampato video in un formato che c'eravamo un po' inventati sul momento i nomi uno dopo l'altro separati da spazio allora separati da spazio è facile a dirsi è una scelta se facciamo attenzione in realtà questo separati da spazio funziona perché noi avevamo fatto estrema attenzione a non lasciare mai nessuno spazio fuori dai tag se io tra questo tag chiuso e questo tag aperto mettessi uno spazio chi legge il response text vedrebbe uno spazio in più prima dei nomi e loro dovrebbero poi gestirlo ma allora se c'è uno spazio per primo cosa vuol dire che c'è un nome davanti che è di zero caratteri oppure uno spazio spurio e cosa succede se questi erano nomi americani andava bene loro non c'hanno non c'è Anna Maria che ha lo spazio in mezzo al nome dovrei o magari ce l'hanno ma hanno i due nomi per dire noi abbiamo un problema qui che è quello di codifica di un'informazione complessa articolata un'array di string come la codifico mi devono inventare un modo di codificarlo le ho qua come oggetto java tra un attimo le dovrò passare al browser che poi dovrò usarle in javascript però un oggetto java sul server vorrei passarlo a un oggetto diciamo un oggetto javascript sul browser e in mezzo devo passare dalla response text da una stringa di test da una pagina di test e quindi devo inventarmi un modo di formattarlo non solo l'altro problema che ho è quello di inventarmi un modo di formattarlo in un contesto operativo che è quello di una gsp in cui se non faccio estrema attenzione la gsp mi va a infilare spazi a capo e commenti dove vuole ma dove vuole dove ho detto io però normalmente non faccio attenzione a dove vado a capo se vado a capo dentro un tag o fuori se il commento lo metto dentro lo script lo metto nell'html e qui devo fare estrema attenzione perché se la gsp è nata per sputar fuori in modo comodo tanto html e ogni tanto avere qualche frammento di codice qui in realtà lo stiamo un pochino forzando e stiamo cercando di costruire jsp a non mandare fuori l'html o non mandare fuori i caratteri che non voglio e far sì che le uniche cose che compaiono siano solamente i miei print espliciti perché tutto il resto potrebbe dar fastidio se fossero degli a capo se fossero degli spazi se fossero dei caratteri di commento html allora ci rendiamo conto che forse dobbiamo trovare una soluzione un pochino più robusta allora che risposta come posso costruire la risposta quali sono le alternative per costruire la risposta facciamo pure l'esempio dell'elenco dei nomi ma una prima possibilità potrebbe essere di generare direttamente html la gsp è fatta per generare html l'abbiamo pensata per quello questo elenco di nomi cosa ne facevamo nella pagina javascript prima questa pagina javascript riceveva l'elenco di nomi andiamo pure a vedere il codice prendevamo questo elenco di nomi che erano separati dal spazio andavo ad affettare la stringa dove trovavo gli spazi e poi guarda caro ricostruivo un'unica stringa di testo molto lunga in html non una pagina intera un frammento di pagina allora aspetta un attimo mi sono fatto del male per riuscire a generare una stringa pulita solo con gli spazi senza caratteri spuri di testo testo puro poi la passo al browser e il browser si fa di nuovo del male per prendere questa stringa parsificarla separare i pezzi e ricostruire di nuovo dell'html ma non posso fare l'html direttamente nel server allora a questo punto se io nell'html nel server quindi nella completa .jsp anziché stampare elemento più spazio e poi l'altro se la parsifica lo esegue dovrei già mettere dentro questi span un clic uguale eccetera eccetera è una possibilità neanche tanto stupida la pagina web ha bisogno a un certo punto di un blocco di html da inserire in un div da inserire in uno span da inserire in una certa parte della pagina mi faccio già dare nel server esattamente quella html lo prendo e lo infilo finito lì semplifico di molto la vita del browser va bene il problema qual è il problema è che questa pagina server a quel punto diventa estremamente cablata estremamente dipendente dalla struttura della pagina html e da come ho fatto le funzioni in javascript in quella pagina da quali sono i gestori degli eventi eccetera eccetera quindi ha una possibilità di riuso nulla questa cosa a me piaceva tanto l'idea di avere le pagine asincrona che ricevesse una richiesta e restituissero dei dati poi di questi dati la pagina client il browser se ne fa ciò che vuole magari gli stessi dati in pagine diverse vengono usati per scopi diversi però così riusciamo a fare una volta per bene la pagina ajax la pagina asincrona e poi magari usarla in modi diversi se invece questa restituisce un html potrà essere usata solamente in quel punto lì addirittura questa pagina server dovrebbe sapere come si chiama il gestore dell'evento javascript da richiamare una pagina jsp devo iniettare dentro il nome di una funzione di un callback javascript che magari è ancora da sviluppare magari non ho ancora ben chiari i dettagli quindi crea come sempre una dipendenza che poi potrebbe dare problemi di manutenzione ma è una possibilità tante volte devo generare un elenco di voci di un menu piuttosto che crearmi una struttura dati inventata tanto vale restituire un ul una lista non numerata con i vari list item e poi dopo lato browser se mi serve così la prendo e la metto nella pagina se mi serve invece analizzare le varie voci del menu è facilissimo da partificare soprattutto andando a prendere il DOM del response body le tecniche sono le più diverse però la prima domanda che ci dobbiamo sempre fare è questa cioè quando io ho una richiesta asincrona questa la progetto in modo che restituisca dei li ho chiamati dati grezzi dei dati e basta numeri stringhe testi oppure la progetto in modo che mi restituisca già un frammento di html da prendere e posare nel punto giusto è una scelta nel caso di costruzione di html va bene le jsp sono fatte apposta chiaramente non dovrò mettere head e body i tag esterni della pagina ma solamente un frammento ma per il resto non è un problema mentre invece se devo trasferire i dati grezzi devo innanzitutto evitare devo risolvere due problemi uno è evitare di dover impazzire per non per non ritrovarmi nella risposta dei caratteri che non volevo mi piacerebbe dire alla jsp senti caro jsp non generare tu il testo non generare quello che chiamavamo il template text non fare tu le outprint line che che generi automaticamente ogni volta che trovi un carattere al di fuori di un tag e perché voglio che gli unici caratteri stampati siano quelli che genero io dall'interno degli scriptlet è un altro modo di dire non uso jsp ma uso direttamente la classe java è come se avessi una pagina jsp in cui non c'è template text che rimane e rimane la classe java sottostante che tanto esiste e viene creata e quindi la soluzione può essere per noi quella di non creare in questo caso in questi casi in cui ci interessa molto il singolo carattere emesso vogliamo essere sicuri di non emettere mai un carattere sbagliato mai uno spazio mai un a capo di troppo eccetera si può fare con le jsp però bisogna fare estrema attenzione dove metto i commenti dove metto gli a capo dove metto gli spazi e dopo un po' qualcosa scappa e vai a trovare in debugging uno spazio che non ci doveva essere perché non si rivede lo spazio allora l'alternativa è tagliamo la testa al toro non usiamo le jsp in questi casi specifici usiamo direttamente la classe java ci facciamo direttamente una classe java che sarà mai infatti non è un gran problema queste classi si chiamano servlet abbiamo già viste adesso qui non stiamo a farla lunga perché noi non andiamo a fare una progettazione è basata su servlet ma solamente vedere quando quando ci interessano dunque qui c'è tutto il discorso sul ciclo di vita che non ho ok che cosa sono le classi servlet no intuitivamente le conosciamo già dalla prima settimana sono le classi che realmente gestiscono la richiesta e la risposta hanno ogni servlet quindi è una classe java che gestisce una richiesta che proviene dall'esterno la classe servlet in realtà detto così servlet e basta è molto molto astratta può gestire richieste che arrivano attraverso vari protocolli in realtà quello di cui stiamo parlando che costruiamo concretamente è un'istanza non di servlet ma di http servlet che è una sottoclasse che è relativa alle richieste che arrivano col protocollo http ma a livello astratto c'è un metodo service questo è un interface quindi un metodo service che poi dovremmo implementare che riceve una richiesta e una risposta una request e una response quindi il pattern è già quello che conosciamo abbiamo una richiesta e una risposta è una classe che ha un metodo di servizio che noi dobbiamo implementare ma soprattutto andremo a implementare non direttamente il metodo service della servlet ma i metodi di una sottoclasse di http servlet quindi http servlet è già una sottoclasse di servlet che fa già un po' di lavoro di interpretazione della richiesta e della risposta sapendo che è arrivata col protocollo http ci lascia da implementare il lavoro vero e proprio di fatto che cosa fa l'http servlet accetta una richiesta che arriva dal browser viene chiamato il metodo service perché in tutte le servlet viene chiamato il metodo service la classe madre quindi l'http servlet che non dobbiamo fare noi analizza questo service e dice ok che tipo di richiesta è questa è arrivato un get è arrivato un post ma poi in realtà il protocollo http prevede altre funzioni altri metodi options put load c'è una serie di metodi che sono prescritti dal protocollo http noi normalmente lavoriamo con get e post ma guarda di fatto cosa fa guarda il tipo di comando http che è stato chiamato e chiama un metodo opportuno per noi questi metodi opportuni saranno quasi sempre o do get oppure do post quindi mi chiamano do get e do post passandomi già la richiesta e la risposta con cui posso lavorare vabbè qui non andiamo a discutere molti trading qui ci sono una serie di metodi sul servlet la maggior parte dei quali qui c'è scritto non non fate l'override perché va bene l'implementazione che ne dà l'http servlet mentre invece i metodi utente i veri metodi utente sono questi in realtà se volessimo se ne avessimo bisogno potremmo anche utilizzare un metodo di inizializzazione se ci serve per inizializzare qualche variabile alla prima chiamata del servlet però poi di fatto qua ci complicheremmo la vita perché noi non sappiamo quando il servlet viene chiamato in che ordine rispetto agli altri servlet quindi è meglio e quando Tomcat invece decide di liberarlo di togliere la memoria ok questo nella pratica cosa significa? significa che noi sei bloccato? vabbè qui ci sono una serie di altri metodi tra cui il più interessante è il server config che mi permette di restituire l'oggetto che nelle pagine JSP chiamavamo application lo scope di applicazione allora il servlet è la classe Java nella quale noi possiamo implementare le nostre operazioni tutto ciò che facevamo dentro uno script lo possiamo fare dentro un server una servlet e quindi in particolare i parametri della richiesta avrò le stessi metodi che usavo prima request.getparameter perché è lo stesso oggetto request lo stesso metodo getparameter dell'oggetto request che era visibile dentro JSP ma perché in realtà il JSP era la servlet e in più ad esempio ho un get session che è un metodo della request quindi se voglio avere contenitore di sessione devo fare a mano cose che nel JSP sono fatte in automatico perché là avevo già l'oggetto out l'oggetto session l'oggetto application l'oggetto request l'oggetto request è anche qua e qui invece devo andarmi a prendere interrogando principalmente l'oggetto request io ho creato qui al fondo di queste slide una sorta di tabella di corrispondenza a queste pagine out to eccole qua di corrispondenza nelle JSP quando costruiamo una servlet ci mancano alcune operazioni che invece con i JSP facciamo un'istruzione sola e tipicamente sono impostare l'encodine della pagina il forward e l'utilizzo dei bing adesso ogni volta che avevamo bisogno di fare un'operazione di questo genere uscivamo un attimo dallo scriptlet perché ci faceva comodulare il tag JSP gli enton servlet non posso perché sono direttamente dentro la classe Java allora come si traducono queste cose allora generare html che poi al fine è lo scopo ultimo o generare la risposta che è lo scopo ultimo si fa ovviamente con out.print out.write out.printline di vari metodi solo che l'oggetto out non ce l'ho predefinito devo ottenerlo l'oggetto out l'ottengo dalla response .getWriter quindi me lo devo prendere io è un'istruzione in più per ottenermi l'oggetto out l'impostazione del tipo di risposta che veniva fatta in modo dichiarativo page type uguale qui si fa con un set content type direttamente sulla response quindi sempre un'istruzione contro una quindi non c'è molto problema per fare un forward è un pochino più complicato ma neanche troppo perché c'è un oggetto che si chiama request forwarder scusate request dispatcher che questo request dispatcher ha il metodo forward quindi bisogna essenzialmente farsi restituire un nuovo request dispatcher a cui dico guarda questo è l'indirizzo verso cui voglio fare il dispatcher della richiesta l'invio e poi chiamare il forward per effettivamente farlo il tutto in realtà si riduce a questa riga dalla request mi faccio dare un oggetto request dispatcher lo programmo con la url di destinazione e poi punto forward manda mandandogli una copia della request e della response corrente perché ovviamente la nuova pagina deve lavorare sulla stessa request quindi se abbiamo bisogno di fare una request direttamente da un servlet anziché gsp due punti forward questa è la riga da usare così come l'utilizzo dei bin i bin si possono sono oggetti che vengono messi in un contenitore di sessione contenitore di richiesta contenitore di applicazione in modo semplificato implicito in realtà a basso livello esistono i metodi set attribute e get attribute che servono per salvare un oggetto in un contenitore o per riprendere un oggetto da un contenitore quindi i bin sono gli attribute allora quando io voglio memorizzare un bin ad esempio c'è lo user data nello scope di richiesta quindi quando in gsp scrivevo gsp due punti use bin scope ugual request allora mi creo la classe e poi set attribute sulla richiesta quindi nel contenitore di richiesta setto l'attributo e set attribute ha due parametri il nome che è l'id quello che usavamo jsp set use bin id uguale nome dell'istanza virgola l'oggetto il riferimento all'oggetto quindi memorizza questo oggetto come attributo della richiesta come oggetto memorizzato nella richiesta con il nome user data e per andarlo ripescare tipicamente nella pagina successiva se è una jsp potrà fare tranquillamente jsp use bin se fosse un'altra server se lo può andare a ripescare con request punto get attribute davanti ci vuole un cast di tipo perché get attribute restituisce un object generico perché non sa che cosa ci ho messo dentro e quindi dovrò fare il casting io questo per quanto riguarda il contenitore di richiesta se oggetti con scope di request oggetti con scope di session lo stesso meccanismo ma prima devo farmi dare la session la session me lo faccio dare la richiesta quindi session è uguale request punto get session e a questo punto posso fare set attribute o get attribute con una piccola differenza devo fare attenzione perché mentre nella richiesta sono abbastanza sicuro se io sono un controller che lo sto creando io quell'oggetto quindi lo imposto nel contenitore di request non c'era già di sicuro perché il controller lo crea e la vista lo usa l'oggetto di sessione invece viene usato da tutti il primo che passa di lì lo crea e gli altri lo riutilizzano quindi devo fare attenzione a fare un set attribute se prima di farlo controllare che non ci sia perché se c'è non vado altrimenti lo sovrascriverei butterei via l'oggetto vecchio con uno nuovo con la set attribute non si può fare questo errore questo danno in java sì in teoria sì quindi prima di fare set attribute dovrei controllare che se non c'è ancora se nessuno ancora l'ha messo in sessione allora lo metto io se no uso quello e quindi vado a controllare quindi prima di far new devo controllare se non ci sia c'è un metodo punto is new che ad esempio nell'oggetto sessione dice se la sessione è appena stata creata quindi se questa è la prima pagina di una sessione allora fai qualcosa se invece la sessione è già stata creata prima probabilmente è già stata inizializzata quindi queste ultime 3-4 slide di fatto sono una sorta di tabella di corrispondenza tra ciò che scrivevamo in GSP e ciò che dovremmo scrivere se vogliamo costruire una servlet qui appunto le servlet noi le introduco qui solamente perché è un modo comodo per evitare di impazzire sui caratteri non desiderati per il resto usiamo usate pure indifferentemente GSP o servlet come preferite ok ci rimane l'ultimo problema allora noi abbiamo sgrossato un pochino la cosa dicendo va bene mi tolgo dai piedi per un attimo il livello GSP così non ho caratteri che non voglio a questo punto posso costruire la mia risposta con la servlet facendo di fatto out.print dei dati che mi interessano come formato i dati allora abbiamo già visto una stringa tutti su una stessa riga se parti da spazio può andare bene ma non sempre ad esempio nel caso in cui appunto i nomi stessi possono le stringhe stesse possono contenere degli spazi al loro interno va bene ma allora cosa faccio allora delimiterò le stringhe con delle virgolette con delle virgole con dei caratteri diversi se metto dei backslash davanti agli spazi per fare l'escaping dovrei inventarmi un formato ma attenzione noi stiamo non inventiamocelo per la dodicesima volta noi abbiamo fatto abbiamo speso un mese a parlare di web service che fanno proprio quel lavoro SOAP è un modo per codificare in modo standard una qualunque struttura dati è un modo un po' masochistico perché c'è tanta roba intorno ma anziché inventarmi ogni volta ok io separo la virgola no io separo con punto e virgola ma io separo con lo spazio io con il punto esclamativo no separiamo con un xml in particolare con SOAP quindi tutto questo discorso potrebbe risolversi dicendo ma perché una chiamata AJAX quando deve chiamare il server non lo chiama come se fosse un web service gli manda una richiesta SOAP un bel pacchetto SOAP gli torna un pacchetto SOAP indietro e abbiamo risolto tutti i problemi di codifica dei dati se non proprio SOAP magari in xml se non abbiamo bisogno di tutti i livelli di disintermediazione che sono diciamo così impliciti in una richiesta SOAP e questa era l'idea iniziale infatti l'oggetto xml si chiama xml proprio per quel motivo l'idea è scambiare dei pacchetti di xml che contengono dei dati col server e va bene si può fare il problema è che è pesante sia in termini di codice scritto sia in termini di tempo di esecuzione elaborare l'xml sul browser è tempo perso abbiamo visto quanti caratteri servono per portare un numero codificandolo in xml e se poi questa cosa qua la dovete fare in tempo reale mentre l'utente sposta il mouse ogni elaborazione inutile andrebbe tolta dai piedi servirebbero soluzioni più snelle più leggere questo è il motivo per cui a volte non si anzi spesso ultimamente non si usa quasi mai l'xml non è impossibile la libreria javascript standard dei browser ha tutto ciò che serve per parsificare il DOM dell'xml lo potete creare leggere scrivere serializzare fate tutto quello che volete la libreria del browser ve lo fa però spesso si tende a evitarlo per trovare invece soluzioni più rapide quindi noi abbiamo due estremi l'estremo si è il testo il fai da te lo codifico me lo invento adesso per poi accorgermi tra un anno che non va bene perché c'è un tizio che ha un nome strano oppure oltre al nome devo passare anche un'altra informazione allora devo reinventarmi una codifica totalmente diversa l'altro è quindi artigianale non ci piace dall'altro sono codifiche se vogliamo robuste standard come SOP oppure una variante di xml semplificata rispetto al SOP però sono pesanti da gestire allora c'è qualcosa c'è una via di mezzo qualche cosa che sia adatto a vivere nel mondo javascript veloce da generare veloce da parsificare semplice da scrivere semplice da leggere semplice sia per il programmatore sia per il programma proprio in termini di tempo di recuzione ma standard quindi non me lo devo reinventare ogni volta e che quindi sia in grado di incapsulare tutti i tipi di dati che mi servono allora questo come sempre di risposte ce n'è più di una quella che ha preso piede per la maggiore è quella che si chiama json ce n'è un'altra che si chiama yaml json è bellato sulle parentesi graffe yaml è bellato sugli spazi come strumento di contenimento cos'è json json sta per javascript object notation cioè una notazione di oggetti ispirata copiata da quello che fa javascript non è javascript ma si nel senso che è un modo per rappresentare dei dati in formato testuale quindi non usiamo l'xml per incapsulare dei dati usiamo delle parentesi graffe le usiamo con le regole delle sintassi di javascript possiamo scegliere le sintassi che vogliamo usiamo quella ok che è una sintassi molto semplice nel senso che un oggetto json non è altro che aperta graffa nome due punti valore virgola nome due punti valore virgola nome due punti valore chiusa graffa esattamente quello che abbiamo visto prima in javascript per passare una serie di valori proprietà valori delle proprietà oppure se volessi rappresentare un array lo faccio con le parentesi quadre aperta quadra 3,5 7 virgola pippo virgola 9.4 chiusa quadra ricordiamoci che gli array in javascript possono essere di tipo misto e con questo posso rappresentare i dati di tipo base stringhe numeri array addirittura oggetti ma gli oggetti di fatto li rappresento così fornendone descrivendone i loro campi vabbè poi ci sono tutti i dettagli per i caratteri permessi i backslash come vanno codificate le cifre eccetera quindi una codifica è estremamente semplice se voglio rappresentare di fatto ce l'abbiamo qui no dov'è qui questo è una rappresentazione di un oggetto in notazione json la parte evidenziata non tutto il resto aperta quadra nome due punti valore virgo nome due punti valore chiusa graffa aperta graffa chiusa graffa è un modo per rappresentare un oggetto che ha due campi un nome un valore i tipi di dato di questi campi vabbè non li dichiaro a priori li vedo quando mi arrivano vedo che cosa sono avrei potuto dire dato barra dato e dentro dato mettere nome ca barra nome poi dopo aver scritto max 10 barra max codificando in xml è un modo di racchiudere dei dati ok che vantaggi ha questo ma un primo vantaggio è che la sintassi che è stata scelta per rappresentare questi dati coincide con la sintassi javascript quindi sta roba qui quando viene ricevuta da un codice javascript è facilissima da da usare non è immediato da usare perché il codice javascript riceverebbe una cosa di questo genere vado sotto va la risposta dal server sarebbe una cosa di questo genere fatemi mettere un paio di backslash qua se decidessi che il server codifichi i dati in modazione json allora nella response text va a finire questa cosa qua con le parenti di graffe la response text però è una stringa quindi nel codice javascript mi arriva una risposta che è una stringa che contiene questa notazione ma qui adesso gioco il jolly e a questo punto io dovrei se non giocassi il jolly dovrei dire ok allora vado a vedere le graffe vado a cercare la virgola separo questa cosa tolgo le graffe separo la stringa dove c'è la virgola poi una volta sui vari pezzettini trovo i due punti trovo il nome e divento pazzo per andare a separare il nome dal valore dal nome dal valore di questi due dati che mi servono quindi in realtà non è che se avessi separato avessi scritto var separato da spazi se la risposta fosse stata semplicemente CA spazio 10 insomma la mia vita sarebbe stata più semplice per restare CA e per restare 10 il problema ovviamente era che non è generale come soluzione se ci sono gli spazi tutti i problemi che abbiamo visto adesso abbiamo trovato una notazione carina standard più semplice sicuramente più semplice di XML più facile da generare però più complicata da leggere salvo ricordarci che JavaScript è un linguaggio interpretato e non compilato e nei linguaggi interpretati come dicevo esiste il jolly che si chiama eval la funzione eval di JavaScript prende una stringa di testo e fa finta che sia un'istruzione scritta nel codice eseguibile nel codice interpretato e quindi dice guarda io adesso eseguo questa eseguo una stringa di testo eseguo le istruzioni scritte dentro quella stringa di testo è come se buttassi via le virgolette e questa fosse un'istruzione che c'era già qui nel codice so che non c'era nel codice mi è arrivata la server in una richiesta sincrona ma eseguo le istruzioni presenti dentro una stringa lo può fare perché se non interprete può interpretare parsificare il linguaggio in tempo reale direttamente perché tanto già lo fa una riga dopo l'altra lui fa finta che la riga successiva sia guarda caso questa e non quella che c'è scritto sotto quindi valuta in tempo reale questo è pericoloso perché se qui dentro c'è scritto qualche cos'altro qua sopra fuori da questa graffa c'è scritto punto e virgola cancella tutto punto e virgola mandami ruba i dati da questo computer viene eseguito quindi devo fidarmi di che cosa c'è scritto qua dentro ma questo è il principio di base ovviamente noi non useremo mai la eval direttamente ma cosa succede che valutare questo crea un oggetto javascript una mappa dicevamo prima questa è la sintassi per fare le mappe e guarda caso se io uso questa sintassi è come se scrivessi questo come se e questa è la normalissima sintassi javascript per creare una mappa di due elementi il primo si chiama nome il secondo si chiama max però questo attenzione non lo scrivo è come se ma una volta che ce l'ho cosa posso fare beh posso usare direttamente risposta punto nome o risposta punto max e lo uso per fare non so alert o cose magari anche più utili perché a questo punto ho creato un oggetto inizializzandolo con una mappa che era dentro una stringa quindi il lavoro non c'è più da fare il lavoro di andare a esaminare dove sono le parentesi graffe dove è la virgola dove ci sono i backslash sì ma lo fa il parser javascript che è una delle cose più ottimizzate dei browser di oggi perché le tonnellate di javascript che devono digerirsi devono essere velocissimi lo faccio fare al parser javascript non me lo faccio io andando a spezzare la stringa e mi restituisce direttamente un oggetto javascript che contiene i campi della risposta che mi aspettavo i dati i grezzi che mi servivano quindi questa è la la furbata dietro a questo formato di rappresentazione formato molto semplice che costa zero supportare in javascript perlomeno in ricezione in realtà costa zero ma questa eval dicevamo è pericolosa per cui come minimo si fanno operazioni di questo genere operazioni di questo genere aperta tonda più risposta dal server più chiusa tonda per fare in modo che questa venga interpretata effettivamente come un'espressione un valore e non come un'istruzione eseguibile però bisognerebbe poi controllare che lì dentro non ci sia scritto function che non venga creata una funzione che poi quando accedo a quel dato in realtà sto chiamando la funzione o cose del genere no dobbiamo sempre essere sospettosi con le stringhe che arrivano dall'esterno ma per fortuna dicevamo questo è il principio di base ma poi anche qua ci sono tante librerie che mi permettono di generare e consumare dati in javascript quindi normalmente per quello che dovremmo fare noi quasi sempre la generazione del json la fa la servlet il server deve dare una risposta questa risposta se contiene solo un numero va bene così mettiamo il numero come testo se contiene i dati più strutturati li codifichiamo in json che è la cosa più comoda che sia comoda lo vediamo adesso dopodiché il javascript prende questi dati li riceve li deserializza cioè li analizza e ottiene un oggetto javascript direttamente con i dati dentro che può usare normalmente nel codice per fare queste cose ci sono opportune librerie sia a noi servono delle librerie in java per poter almeno generare un json a partire da un oggetto java sia librerie lato client quindi in javascript che mi permettano di come minimo partire da una stringa di testo e ottenere l'oggetto corrispondente senza farla eval o meglio facendo l'eval ma facendo tutti i controlli di sanità di correttezza in modo che vengono ricostruiti solamente dati, grezzi e non comportamenti funzioni o procedure questo allora lato server ci sono se andate a vedere su questo sito json.org lui ha un elenco delle librerie nei vari linguaggi di programmazione di questa terra che supportano json quindi qualunque linguaggio potete leggere lo scritto talmente semplice di linguaggio che sono librerie per qualsiasi per qualsiasi linguaggio di programmazione che vogliate utilizzare quindi è facile è diventa è un un formato di interscambio che in tanti casi ha soppiantato l'xml molto più semplice l'xml per carità è molto più formale fa tutti i controlli sui dati dove metti un intero non ti lascia mettere una stringa cosa di questo genere ma spesso non serve serve incapsulare i dati e spedirli in modo indipendente rispetto al linguaggio e questo è ciò che fa json in particolare per java noi abbiamo bisogno di una libreria che sia richiamabile dalle nostre server e dalle nostre gsp ce ne sono diverse ce n'è quella diciamo così più vecchia org.json è quella che è stata creata dall'inventore di json che ha fatto una libreria che è la cosiddetta implementazione di riferimento volendo si può usare quella ma noi useremo una libreria che si chiama json simple che come dice il nome è semplice e leggera è un jar di poco peso ovviamente questo jar questa libreria dovremmo aggiungerla nel webinflib nel nostro progetto come già facevamo per la libreria di JDBC aggiungiamo il nostro progetto ma è una cosa non so se sono 40 kilobyte o anche meno 15 kilobyte quindi una cosa minima e come si usa questo oggetto allora noi lo useremo soprattutto per fare codifica abbiamo un oggetto java in questo caso nel nostro esempio era una lista di stringhe e voglio ottenere questa lista di stringhe si è realizzata sotto forma di stringa di oggetto string da mandare nella response con le regole del json è molto semplice perché c'è un oggetto che si chiama json object che di fatto è una mappa è una sottoclasse di map quindi nella map noi possiamo mettere col metodo put copie nome valore nome valore nome valore nome valore quindi noi in questo nuovo json object buttiamo dentro i dati che vogliamo questo valore può essere uno qualsiasi di questi tipi scusate torno indietro può essere posso buttare dentro una stringa un qualunque numero un booleano una lista o a sua volta una mappa quindi posso creare strutture annidate quindi nel nostro caso in cui abbiamo un array di nomi anzi abbiamo una lista di string possiamo già buttare direttamente dentro non i singoli nomi ma già direttamente la lista viene trasformata in un array json con la parentesi quadra e ovviamente quando poi la ricostruisco in javascript verrà trasformata in un array javascript e poi una volta che l'ho fatto posso il to string serializza direttamente l'oggetto quando lo serializza lo serializza con la sintassi json poi ci sono altri esempi di mandarlo direttamente su un writer di esplorare la stringa eccetera eccetera funzionalità avanzate quello che si chiama streaming significa generarlo poco per volta in modo che se hai dei dati molto grandi li puoi fornire in modo incrementale ma noi non interessano per il momento queste cose avanzate quindi questo di fatto di nuovo sono due righe di programma che ci permettono usando queste librerie di codificare la risposta poi ovviamente è anche possibile ma in questo caso a noi non serve fare operazioni inversa decodificare partire da una stringa json e poi col metodo json value.parse ottenere un oggetto java oggetto java che sarà in questo caso un oggetto che ha due campi di cui hanno i dati poi però è costoso andare poi a parsificarlo ma nel nostro caso non è questa la direzione in cui ci interessa questo lato serve per costruire in java la risposta codificata in json lato client mi arriva questa string json abbiamo detto voglio fare le val ma senza fare le proprie val serve una libreria che mi permette di parsificarlo ecco nelle versioni recenti dei browser hanno inserito nella libreria standard javascript un oggetto che si chiama json tutto maiuscolo questo oggetto è semplicissimo perché ha solo due metodi che si chiamano parse e stringify il metodo parse riceve una stringa in formato json e restituisce l'oggetto corrispondente non facendosi fregare nel caso in cui la sintesi non sia corretta stringify fa il contrario gli do un oggetto javascript e mi restituisce la stringa json corrispondente finisce lì ha solo questi due metodi ma è già predefinito dentro il browser quindi non sono più obbligato da poco a importare un'ulteriore libreria javascript che mi permetta di fare questo per esempio questa tabella di compatibilità fa vedere che questo è relativo a varie oggetti javascript oggetto json è supportato praticamente da tutti i browser di questa tabella è tutta verde la riga tranne questo qua che è conqueror 4.3 che sfido chiunque questo da internet explorer 8 e firefox 3.5 e safari 4 in avanti quindi stiamo parlando di versioni che sono comunque vecchie di 2-3 anni browser più antichi quindi andiamo a prendere anche internet explorer 7 firefox 3 invece non ce la fanno non ce l'hanno ancora l'oggetto json no no vediamo qua mi dipende un po' nel nostro caso direi che possiamo usarlo tranquillamente se dovessimo costruire un sito che è visitato anche da utenti che abbiano diciamo così browser non tanto aggiornati o i browser mobili perché poi lì ognuno diverso quelli dei dispositivi mobili magari non ci conviene usare direttamente l'oggetto json e allora cosa usiamo usiamo una libreria che mi permetta di fare questi due metodi parse e stringify in modo non nativo nel browser spesso non c'è ma è una libreria diciamo un nome jQuery jQuery guarda caso tra i tanti metodi ne ha uno che si chiama parse json che fa quello ovviamente se il browser implementa l'oggetto json per efficienza gli passerà il lavoro direttamente lo delega al browser se il browser invece non ce la fa sarà la libreria jQuery che fa quel lavoro quindi o usiamo l'oggetto json nativo punto parse oppure dollaro punto parse json che fosse la soluzione migliore perché era più portabile gli passano la stringa e mi restituisce l'oggetto quindi è come eval dal punto di vista della sintassi è una riga sola mi dà l'oggetto facendo però ovviamente tutti i controlli che deve fare non solo c'è addirittura un passo ulteriore visto che questo json da dove arriva ma arriverà al 90% da una richiesta a ajax quasi sempre questo json non lo sono inventato non ce l'ho in tasca allora c'è già una funzione che si chiama jquery.getjson che combina il jquery.get ricordiamoci il jquery.get è la versione semplificata dell'ajax e poi quando gli arriva la risposta assume non dà per scontato che sia in json e subito la converte in oggetto quindi in una riga solo faccio tutto urlo i dati da passare la funzione success riceve un parametro data ma questo data dovrebbe essere già l'oggetto e non più il file adesso dove è scritto non lo trovo più ma la differenza tra il get e il get.json è che si assume che i dati siano già codificati in json e quindi al callback viene già passato l'oggetto eccolo qua se il valore dell'oggetto è una mappa è convertito in una stringa no questa è la sua eccolo qua il callback success viene chiamato passandogli i dati ritornati che tipicamente è un oggetto javascript quindi è codificato in json oppure un oggetto un array secondo e quindi questo oggetto questa stringa questa response test viene passificata utilizzando pass.json e quindi mi arriva già direttamente l'oggetto java con un'unica istruzione quindi questo chiaramente è una strada possibile un percorso possibile che abbiamo fatto per risolvere il nostro problema come fare in modo serio in modo robusto le chiamate ajax usando le comodità che vogliamo quindi la libreria jQuery libreria di altro server eccetera ci sono centinaia di soluzioni ma direi che quelle su cui ci soffermiamo di più che utilizzeremo saranno $.get se non ho bisogno di dati codificati in json altrimenti direttamente $.get json e sul server per codificare i dati possiamo usare la libreria json simple io avevo però vedo che l'orlogio non ce lo permette ricostruito l'applicazione dell'altra settimana quella dell'autosuggest usando queste tecniche quindi magari quello che posso fare è lo metto in rete e poi io ci sarò di nuovo giovedì quindi al limite uso il primo quarto d'ora della lezione per dare un'occhiata insieme al codice se avete già avuto occasione di guardarlo così mentre domani invece la giornata sarà su sul passo dopo adesso questo AJAX queste tecniche AJAX le usiamo e poi vi proporremo anche un esercizio sull'energy community e ci permettono di richiamare delle funzioni sul nostro server il passo successivo è quello di riuscire a richiamare delle funzioni anche su un server diverso i cosiddetti mashup domani lavorerete giocherete con le mappe di google che di fatto usano questo tipo di tecniche e scambiano dati in json e fanno delle richiamate asincrono in AJAX per poter integrare nel nostro sito funzioni offerte lato client integrato lato client offerte da siti remoti Grazie a tutti